ciao se siete qui avete visto le nostre storie le nostre storie su obiettivo cittadinanza storie di vita come quelle di italiane ed italiani nati o cresciuti in italia da sempre ma cittadini da mai l'abbiamo raccontate per dimostrare l'assurdità di una legge che non cambia una legge che dovrebbe rappresentarci e che ha in mano le nostre vite di cittadine e cittadini senza cittadinanza e che ci rende appunto italiane e italiani non riconosciuti obiettivo cittadinanza è una campagna che nasce per chi come noi è straniero nel proprio paese uno spazio per le nostre storie un luogo dove scambiarsi esperienze e testimonianze e per rendere visibili le persone alle prese con il complicato iter di acquisizione della cittadinanza italiana uno spazio per dimostrare per raccontare il paradosso della legge che ha in mano le nostre vite per condividere la tua storia inviaci un breve testo che ti racconti e due foto una di te adesso ed una di te prima tutte e due scattate in italia trovi tutte le info su obiettivo cittadinanza e anche sulla nostra piattaforma web obiettivo cittadinanza.it bella per voi